Si inasprisce la vertenza a Gela e il ricorso della Cassa Integrazione in deroga fino al 31 marzo per i dipendenti dell'indotto Eni in attesa dell'inizio dei lavori per la conversione green della raffineria che abbandona il petrolio per produrre biocarburanti investendo 2,2 miliardi di euro, deciso mercoledì scorso a Roma tra Regione, Comune e Ministeri dello Sviluppo Economico e del Lavoro non piace affatto a chi protesta. Pannicelli Caldi Anche i sindacati Cigella e Cisle Will hanno espresso uno giudizio fortemente negativo sull'accordo raggiunto Le contestazioni sindacali riguardano i tempi troppo lunghi per la ripresa dell'attività produttiva La vertenza, complessa sin dal suo avvio, scrivono in una nota i segretari provinciali Ignazio Giudice, Emanuele Gallo e Maurizio Castania è stata generata dai ritardi governativi e viene ulteriormente complicata dalle scelte dei governi nazionale e regionale in merito alle politiche industriali Di fronte ad una situazione senza precedenti che colpisce la città ed il suo comprensorio Cigella e Cisle Will chiedono che si applichi in tutte le sue parti il decreto aria di crisi complessa emanato quasi un anno dietro e si rifiutano di sottostare alla logica dei due pesi e due misure E questa mattina si tinda di protesta dinanzi al centro Oli di Contrada, Piana del Signore Loro credono che col contentino che ci hanno dato a Roma, dicendo che ci danno qualche mese di ammortizzatore sociale noi ci leviamo dalle strade La protesta continua, continua fino a quando non andremo a lavorare finché non ci sono i primi soldi per andare a lavorare noi siamo da una strada all'altra e non smettiamo più I tre mesi di cassa integrazione si potrebbero anche accettare ma però a pensare che alla scadenza dei tre mesi di cassa integrazione si dovrebbe prendere il ciclo produttivo di andare tutti a lavorare ma se non si va a lavorare non sono i tre mesi che danno il contentino ai lavoratori per accontentare i lavoratori si debbano aprire i cantieri se no di qui non ti sposta più nessuno noi siamo costretti o anche facciamo che alziamo anche il tiro più forte Questa è una lotta per la città di Gela perché sappiamo bene che se gli operai e tutte le persone che lavoravano nell'indotto spendevano e facevano girare l'economia se questo non succede significa che Gela muore a iniziare dai negozianti, dagli artigiani e dai liberi professionisti io invece in televisione voglio fare un appello a tutti gli imprenditori di Gela perché gli ricordo che gli operai siamo in protesta siamo senza lavoro ma le aziende sono loro grazie a tutti